La parola Santa è il diminutivo di Santa Claus, deriva da San Nicola, San Nicolaus, Santa Claus. Se leggete e sentite la parola Santa, ricordate che è riferita a Babbo Natale, la storia di Natale, una piccola parte da Il vino di Babilonia del professor Walter Veith, fonte amazingdiscoveries.org. E che diciamo del Natale? Bene, il Natale è celebrato ovunque. Il Natale è la rappresentazione del serpente che ha dato la vita all'albero Osiride, che è stato tagliato ed attraverso la vita del serpente, il serpente che ha dato la vita ai butti dell'albero e che ha fatto crescere un fresco germoglio. Questo è stato decorato con globi rotondi illuminati nei tempi antichi per celebrare la rinascita di Osiride nella forma di Horus. Inoltre hanno preso il ceppo, chiamato il ceppo della gioia, gettandolo sul fuoco per rappresentare la morte e la sofferenza di Osiride, di questa resurrezione, col vischio, simbolo di fertilità e di amore. Se vi mettete sotto il vischio e vi baciate, trovate l'amore. Bene, qual è stato il sacrificio agli dèi, precisamente quel giorno? Il sacrificio principale è stato fatto con due animali impuri, l'occa ed il maiale. In Europa, in Germania, la cena di Natale è l'occa di Natale. E se andate in Inghilterra, è il prosciutto. Il prosciutto e l'occa, le due offerte. Più tardi saranno sostituite da due uccelli diversi, ma la divinità del maiale si trova proprio là. Qui abbiamo la scarna dea Amaterassus, servile adoratrice di Suraya, e qui insieme ad Amaterassus, Suraya, fortuitamente, viaggia verso il cielo con la sua carrozza trainata da cavalli. E durante il solstizio d'inverno, Suraya si sposta nel cielo trainata nella sua carrozza. Bene, dipende da dove vi trovavate. Qui abbiamo Suraya che viaggia nel cielo con la carrozza trainata a cavalli. Se fosse stati il dio Zeus, per esempio, in Grecia, allora avreste viaggiato attraverso le nuvole e il cielo durante il solstizio, quello del 25 dicembre, e vi sareste trovati in una carrozza trainata dalle capre. Se invece foste vissuti nel paese della Scandinavia, dove nevicava, che animale pensate avreste trovato? Trainavano il dio del sole attraverso il cielo il 25 dicembre. Bene, qui c'è il medaglione di Sibeli, che si trova su una carrozza. C'è il sole, la mezzaluna con una stella che si trova all'interno, e qui nuovamente c'è una miniatura indiana di Suraya, esattamente la stessa, Suraya e Sibeli, che si tratti di una forma, di divinità o di un'altra. Se andate a Versailles, in Francia, Helios arriva con la sua carrozza fuori dall'acqua e se ne va. Questi simboli celebrano l'elogio della trasformazione mentre viaggiano nel cielo. È da qui che hanno preso la divinità al sole, hanno pigliato tutti i simboli del cristianesimo cambiandoli dai simboli pagani. E qui c'è Raiton, d'argento Hittite, lo vedete? Lo stesso che c'è in Scandinavia. La carrozza è trainata dalle renne. Ora, da dove arriva questo simbolo? Questo ha un nome interessante, santa. Questo sta per santo o santa? Santa è qualcosa di totalmente differente. Se la rimescolate e considerate tutto il sistema intero, otterrete Satana. Chi è che ha ideato il piccolo metto felice? Quello che viaggia attraverso il cielo, che è disponibile per tutti i nostri bambini? È stato Walt Disney. E Disney era un massone di 33esimo grado. Ora, chi è il Dio del 33esimo grado massonico? Dovremmo chiederlo a loro qual è questo Dio. Perché io non posso farlo, mi troverei nei guai. Lasciamolo dire a loro, così andranno loro nei guai, giusto? Venite alla prossima conferenza e vedrete chi è il Dio del 33esimo grado dei massoni. Vediamo l'origine di Babbo Natale. Dal IV secolo le evidenze storiche dimostrano che San Nicolas non è mai esistito come essere umano. Si tratta di una versione cristianizzata da diversi dei pagani del mare, dal Dio greco Poseidone, dal Dio romano Nettuno e dal Dio teotonico Holdenikar, Nicolation. A proposito, la Bibbia nel libro della Rivelazione dice che Dio odia quelli che aderiscono alle dottrine di Nicolation, coloro che servono il trono di Nicolaus. La Rivelazione dice questo. E qui abbiamo Nicolás che viaggia nel cielo ed i nostri bambini dicono per favore San Nicolás, portaci i regali. Dove si trova Gesù nel Natale? Non ha nulla a che fare col Natale. Nei primi secoli della Chiesa Cattolica molti dei e dei pagani sono state umanizzate e convertite in santi cristiani. Quando la Chiesa ha creato la persona di San Nicolás hanno adottato il titolo di Poseidone, il navigatore. Hanno preso il suo cognome da Niccar. Diversi templi di Poseidone sono diventati santuari di San Nicolás, da Nicolation, che Dio odia. Questo è tratto da Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets. Non sono io che dice queste cose. E qual è la teologia di Santa? Santa viene insegnato a molti bambini. È onnipresente, è in grado di visitare milioni di casi in una sola notte. È omnisciente, verifica ogni bambino, vede e sa tutto, sa se sono stati buoni o cattivi. Ha grande potere, è in grado di costruire regali per centinaia di milioni di bambini in una sola notte, ognuno distribuito correttamente ai bambini. È tutta bontà e giustizia. Giudica quale bambino ha avuto un buon comportamento, è eterno e non muore mai. Che ne pensate di lui allora? Che ne pensate di lui allora? Grazie a tutti.